Salve a tutti da Vito Panzenda, siamo a Polla nel Vallo di Liano. Quello alle mie spalle è uno dei panorami più belli e affascinanti di questa splendida cittadina che potete ammirare a circa mezz'ora da Salerno e mezz'ora da Potenza. Quando andate a visitare i posti del sud, venite a Polla, vi aspettiamo!